A Pasqua e Pasquetta rischiamo una situazione davvero assurda. Ci sono più di 300 morti al giorno, ci dicono giustamente che siamo in guerra, i vaccini ritardano, non si può andare nelle piazze, nei parchi, tantomeno al cinema, a teatro, non ti puoi muovere da comune a comune, però puoi andare nei supermercati, nei centri commerciali. Perché? Perché c'è una liberalizzazione del commercio che fu approvata dal governo Monti, quindi con i voti del centro-destra e centro-sinistra, che è diventata legge assurda dal 2012. Ora questa assurdità andrebbe bloccata. Come si fa? Come si è fatto l'anno scorso? Il presidente della regione, Marsiglio, può fare un'ordinanza e tenere i chiusi negozi, centri commerciali, supermercati. Ricordo che sarebbe un atto dovuto perché commesse e commessi sono tra i lavoratori e le lavoratrici che più sono stati esposti e sono quotidianamente esposti a contatto con il pubblico in tempi di virus. Facciamoli riposare, almeno a Pasqua e Pasquetta. Dopotutto, come diceva quel tale, ricordatevi di santificare le feste.